buongiorno stella niente tutto fermo visto il video di giuse e mi accodo mi accodo io sono due anni che io dico out due anni non due io dopo conte ho detto boh basta è finito tutto non ci sono più soldi un po per la pandemia un po per cosa un po per un po perché sono cinesi basta è finito tutto eppure tu dici però la finale c'è stato un caso un caso quindi si tutti preghiamo che se ne vada questo qui che basta tutto inizia e tutto finisce è la vita sta che cazzo vuoi un amore inizia e l'amore finisce pure dopo 30 anni dopo dieci giorni dopo due anni è la vita nulla è certo solo una cosa che tutti andiamo o andiamo dal padre eterno o andiamo all'inferno cioè due sole cose questo è sicuro quindi quelli 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 di della fc zang facciano mea colpa prendono il frustino facciano un mea colpa e basta e cambino rotta venghino 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 finito è finito buongiorno colazione colazione no cazzo è pranzo adesso no io faccio la colazione ciao stella